Non è male, l'amore mi hai comprato il cucciolo di libero afgano. Ho pensato, mentre fai la dichiarazione di erediti, che ne appaia. La bocca è pazzesca, con la goda mi ha parlato, ogni tocco è una lettera, tac tac tac, e ha detto sì, ho capito, roccolo. Geniale. Ah no? Grazie.